Ciao, io sono Elisabetta Tona, sono nata il 22 gennaio 1984, sono un difensore e ho il numero 19. Ho scelto il numero 19 perché è stato il mio primo numero di maglia quando sono arrivata alla Torres. Ho iniziato a giocare a calcio un po' da sempre, con il mio cugino, mio fratello, mio zio, all'oratorio, sotto casa, ho sempre giocato. Oltre a giocare a calcio sto studiando fisioterapia, conciliare lo studio e il calcio non è mai semplice. In questo momento riesco a farlo perché la Florenza comunque mi ha dato la possibilità di farlo. La cosa più bella secondo me del calcio femminile è la purezza. Non è ancora stato contaminato dalle cose brutte del maschile. Una cosa positiva che c'è nel calcio femminile è l'approssimazione. Non mi piace perché secondo me fare sempre tutto al massimo e nel miglior modo è la partenza per poi arrivare in alto. Il mio ricordo più bello nel calcio è sicuramente la partecipazione agli europei o essere arrivata ai quarti di Champions. Una partita in particolare che posso ricordarmi appunto della Champions è stata un ritorno appunto dei quarti contro il Lione in casa nostra. Abbiamo vinto 1 a 0, è stata una delle nostre partite migliori e fu anche l'unica sconfitta in quella stagione appunto del Lione stesso che poi andò a vincere anche la Champions League. Quest'anno ho deciso di far parte del Florencia perché mi è piaciuto sin da subito il progetto che mi ha esposto Tommaso. Ho trovato professionalità che non sempre si trova e comunque anche tanta umanità. Il mio hashtag è Big Dream. Bisogna partire proprio da lì, da un pensiero positivo e da un punto d'arrivo. Quindi se sogniamo una cosa possiamo anche realizzarla. Alla bambina che vuole iniziare a giocare a calcio dico solo di provare. Alla fine è uno sport come un altro. L'obiettivo che ho per me e per la mia squadra sono penso gli stessi. Riuscire a salire in al prima possibile e spero non vedo l'ora di farlo ecco. Se no mi arrabbio tanto.